In una farmacia del centro storico si presenta un signore correndo tutto affannosamente col braccio teso, con la mano così, entra e dice buongiorno, presto, 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 il farmacista che è successo mi dica, 5, 5 mi devi dare 5 scatole di viagra, 5 scatole di viagra, ma signore guardi che 5 scatole sono pericolose, deve stare attento alla salute, non mi servono 5 scatole di viagra perché sta atterrando un aereo carichi di russe a satanate e mi devo divertire, ne voglio 5 scatole. Il farmacista allora, va bene signore, come dice lei, ecco qua 5 scatole di viagra, grazie, grazie e scappa. L'indomani, sempre allo stesso orario, si presenta di nuovo questo signore sempre correndo, presto, 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 arriva il farmacista con il signore di ieri, buongiorno, mi dica vuole altre 5 scatole di viagra, no, no, mi serve una crema per le mani perché l'aereo non è atterrato. Una simpatica vecchietta di 80 anni si trova a farsi una passeggiata per il paese tenendo sotto braccio una bella gallina. Passeggiate che passeggia, si avvicina un bel giovanotto, alto, slanciato, educato, gentiluomo, si avvicina la vecchietta e le dice Signora, ma com'è bella, non è che me la darebbe per 20 euro? risponde la vecchietta. Oh certo che te la darei, però c'è una cosa, chi la tiene la gallina? Un giorno Giuseppe decise di fare un bel regalo a sua moglie vita, vita, amore mio, tieni questo è per te, si presenta col regalo, la moglie lo guarda, amore, oddio sono tutta eccitata, apre il regalo, oh una bella pelliccia, si amore, quest'amore è una pelliccia di puzzola, che bella amore mio, che bella, me la posso indossare? Sì, tu amore mio, indossala, vita si indossa la pelliccia di puzzola, dopodiché la guarda, c'è ma amore, dimmi amore mio, ti piace, ti piace, amore, volevo dirti, ma sembra una cosa impossibile che una pelliccia così bella provenga da un essere così puzzolente, amore, che c'è amore mio, io non ti dico che devi continuare a ringraziarmi, però amore mio, non mi offende. Un uomo un giorno aveva dei dolori nelle parti basse e decide di andare dal medico per farsi una visita di controllo, va dal medico, gli spiega la situazione com'è, il medico ci dice si accomodi che lei dà una bella controllata, l'uomo si accomoda, il medico lo controlla, controlla le parti basse, dopodiché gli dice, senta qua la situazione è seria, lei ha il testicolo destro, che ha un tumore maligno, bisogna operarlo e toglierlo. No, dottore mio, ma che mi sta dicendo? Il mio testicolo mi accompagna da una vita. Mi dispiace, ma purtroppo se lei vuole acampare, il testicolo si deve togliere. Facciamo una cosa, dottore, mi lasci un po' di tempo per pensarci. Va bene, ci pensa e poi mi dia la risposta. L'uomo se ne va, va a casa dalla moglie e gli spiega la situazione com'è. La moglie gli dice, ma perché ci dobbiamo soffermare a un dottore solo? Andiamo da un altro dottore e vediamo quello che ti dice. Si partono tutti e due e se ne vanno dal dottore. Il dottore lo visita al solito, va nelle parti basse, guarda il problema qual è, dopodiché va dall'uomo e ci dice, guardi qua il problema è serio. Si, si, lo so dottore, già me l'hanno detto, dice che bisogna togliere il testicolo. No, quanto mai? Ma sanno a quale medico lei è andato. Qua non ne capiscono niente, non c'è bisogno di togliere il testicolo. Ah, grazie dottore, grazie. Non c'è assolutamente bisogno. E come mai? Perché il testicolo col tempo cade da solo. Un giovanotto alla prima esperienza arriva a casa e decide di convidarsi col padre. Papà, papà, dimmi caro, che è successo? Papà, ti devo confidare una cosa. Dimmi caro, che cosa è successo? Dimmi, dimmi tutto, apriti. Sai papà, oggi ho avuto la mia prima esperienza sessuale. Complimenti! Finalmente! Te la dovevi mettere in testa, caro papà tuo. E anche per te è venuta l'ora. E dimmi, come è stato? È stato bello? Si, si. E quando ci sarà la prossima? La prossima non lo so, papà. Perché papà tuo? Eh, perché dipende da quando mi passerà il bruciore nel sedere. Un ragazzo giovincello, non sapendo come doveva passare il tempo, decide di andare a prostitute. Fino a lì, tutto bene. Si presenta dalla prostituta con la macchina. Si affianca. Buongiorno, signora. Buongiorno, caro. Oh, eh, che facciamo? Andiamo? Signora, mi scusi. Ma quant'è? Eh, ragazzo mio, sei un bel ragazzo. Siccome sei un bel ragazzo, ti posso fare per te 50 euro. Oh, ma che dice? Che sta dicendo? Con questa crisi che c'è, 50 euro, e chi ce l'ha? Eh, ragazzo mio, devi capire anche che 50 euro per darti il mio corpo non sono niente. Eh, signora, capisci, però, devi capire anche che siamo in una situazione critica. Soldi non ce n'è. Eh, ragazzo, che ti posso dire? E allora facciamo che, perché sei tu, ti posso fare stretto, stretto, 30 euro. No, signora, mia, 50 euro è quella bisto, ma con questa crisi che c'è, 30 euro. Ma, ragazzo mio, quanto puoi spendere tu? Signora, io posso arrivare, sinceramente, a 5 euro. No, ma che su, 5 euro, troppo poco. Vedi a che cosa puoi arrivare, dato che sei un ragazzo simpatico, e allora io mi metto a disposizione. Signora, guardi, io posso fare, che le do 5 euro, e eventualmente le do pure il cellulare. Allora, la prostituta ci pensa, ma, meno male, 5 euro più il cellulare. Va bene, ci sto. Se partano, vanno a fare quello che dovevano fare. Dopodiché, il ragazzo, bello gentile, signora, io sono preciso e puntuale. Ecco, quale 5 euro? La donna, allora, gli dice, sì, caro, però il cellulare. Ah, mi scusi, non ci avevo pensato. 3, 4, 5, 67, 36, 5, 5, 5, 5. Una signora siciliana decide di portare la figlia a visita di controllo dal ginecologo. Va dal dottore, gli dice, dottore, vi raccomando, una bella controllata qua mia figlia. Non si preoccupi, signora, si è tranquilla. La ragazza si accomoda, il ginecologo ha la visita, e dopo di che il dottore va dalla mamma e gli dice, signora, mi dica, mi dica, dottore, come ha trovato mia figlia? Signora, sua figlia ha il clitoride che sembra il tappo di una bicca. Ah, e questo lo so, caro dottore, com'è stretto e lungo. No, cara signora, è masticato. A volte la povertà gioca dei brutti scherzi. Luigi, un giorno, per accontentare sua moglie, si trova ad andare a rubare in un negozio, di notte. Dopo quattro volte che ci va, viene preso. E giustamente lo arrestano e lo portano in giubbunale. davanti al giudice, il giudice allora gli chiede, lei che cosa vuole dire in sua difesa? Allora Luigi, davanti al giudice, dice, signor giudice mio, mi deve perdonare, io l'ho fatto proprio perché non avevo neanche un centesimo. Mia moglie piangeva e voleva il vestito nuovo, come facevo? Non la potevo sentire. E allora ho fatto questo sbaglio, sono andato di notte ad andarlo a rubare. Ci fa il giudice. Signor Luigi, io lo capisco, che lei per accontentare sua moglie se ne va a rubare, ma dico quattro volte di seguito per quattro notti, lei se ne va sempre nello stesso negozio a rubare il vestito. Signor giudice mi deve credere, è stata la prima volta, una volta sola l'ho rubato. Ma che dice qua quattro volte? Sì, signor giudice, perché le altre ceci sono andato per cambiare la taglia. Un americano che si sente tutto importante, perché è americano, si trova a fare un viaggio e arriva a Roma. Arrivato a Roma si prende l'autobus per farsi un giro panoramico per Roma, sale sull'autobus e si avvicina vicino all'autista. L'autista mi porti tu in giro per Roma per vedere il monumento? L'autista gli fa, babbo, se tenga forte che mo' viaggiamo. Va bene, non c'è problema io americano. E cominciano naturalmente a fare il giro della città. Arrivato alla Basilica di San Giovanni, naturalmente l'americano gli fa l'autista, Oh, cos'è quel monumento lì? Quello cos'è? Gli fa l'autista. Egrigio americano, quella Basilica di San Giovanni. Basilica di San Giovanni? Bella, bella. Noi in America la facciamo in una settimana, la Basilica di San Giovanni. Noi forti costruttori americani. Yeah! L'autista, giustamente stressato dal troppo orgoglio dell'americano, continua la sua strada in giro per Roma. Arrivati al Colosseo, l'americano gli fa, Oh, cos'è? Quel monumento lì, cos'è? Quella grande struttura, cos'è? Come si chiama? Gli fa l'autista. Quello egrigio signo si chiama Ercolosseo, famoso Ercolosseo in tutto il mondo. Gli risponde l'americano. Ercolosseo, noi in America, struttura come quella, la facciamo in due settimane, quindici giorni, noi americani. Yeah! Noi americani, quindici giorni. L'autista stressato, continua la sua strada in giro per Roma. Arrivati naturalmente alla Basilica di San Pietro, un americano, domanda, E quella, quella, cos'è? Quella, quella monumento, un grande cos'è? L'autista gli risponde, Ah, guardi, egrigio signor, non lo so perché fino a ieri sera non ci stava. Stamattina mi sono alzato presto e ho deciso di andare a fare un po' di footing. Me ne esco da casa e verso il bar decido di entrare a fare colazione. Entro e che vedo un vecchio amico mio, il grande Totuccio, che ora giustamente dopo tanto tempo che io lo conosco è diventato qualcuno. Allora c'è un ragazzo di panza, ma soprattutto benestante. Ci guarda e ci dico Ciao Totuccio mio, come stai? E lui mi dice Ciao Alberto, tu sei diventato stranamore. E io ci ho detto E tu sei diventato Totuccio? Mi fa piacere perché stai bene, la gente lo sa, ti conoscono tutti. C'è sì sì, Alberto mio, però sai, ho un pochino di problemi con mio figlio. Con tuo figlio? Che problemi c'hai, Totuccio mio? C'è tu lo sai che mio figlio sta per diventare avvocato, si sta laureando. Ah, davvero gli faccio? Si sta laureando l'avvocato. Avvocato è una bella professione. Si dici solo che ieri sera mi ha chiamato e mi ha detto papà ti devo parlare, ti devo dire una cosa importante. Mi ha detto, dice papà, tu sai che io vado a scuola ogni mattina con la Mercedes a me non mi sembra giusto. Perché papà tuo? Gli ho risposto io. Si perché gli altri mi guardano tutti, io ci vado con la Mercedes e gli altri miei compagni invece ci vanno con l'autobusso. E tu che cosa gli hai detto Totuccio? Si che cosa gli dovevo dire a betto mio? Ci ho detto papà, tu continua a studiare, diventa avvocato che poi con passare del tempo ti prometto che ti compro pure l'autobus. Un avvocato di grande prestigio ha purtroppo il problema che ogni notte riceve telefonate anonime dove lo svegliano e lo offendono continuamente. Allora lui decide finalmente di difendersi e di prendere a parolaccia queste sconosciute. Al solito una notte l'avvocato mentre che dormiva riceve sempre la solita telefonata. allora che lui risponde pronto avvocato si si io sono ah cazzo è giustamente l'avvocato alla seconda telefonata però l'avvocato risponde pronto avvocato ah siete dei bastardi non mi lasciate riposare in pace come vi permettete lasciate stare le persone in pace ma avvocato così si risponde oddio mi scusi l'avevo scambiata per una telefonata anonima ma lei è l'avvocato si si mi dica pure moglie e marito si trovano in aperta campagna a farsi una bella passeggiata per gustarsi la natura a fianco a una staccionata la moglie comincia a notare un contadino dove a fianco aveva un grande toro nero da monta la moglie si avvicina e gli comincia a fare complimenti al contadino complimenti che bel toro è suo il contadino gli risponde si signora questo è un toro originale da monta e si figuri che questo toro monta 5-6 volte al giorno addirittura dice la moglie hai sentito caro? hai sentito 5-6 volte al giorno? risponde allora il marito ma mi scusi signor contadino ma sempre con la stessa vacca? il contadino gli risponde no che c'è la vacca è diversa hai sentito cara? hai sentito? Alberto mio mi deve aiutare dimmi sbelaggia ti parla pure che cosa è successo? ci ho detto io ci ha aperto io sto cercando l'anima gemella sto cercando un uomo che finalmente mi accetta per quello che sono ci ho detto Leonardo che problemi hai? io sono una bellissima ragazza di presenza sono favolosa solo che purtroppo ho un piccolo difetto ci ho detto io Leonardo che difetto hai? parla pure ho il difetto che nell'intimità quando apro le cosce faccio puzza di cipolla nonostante che mi metta più deodorante possibile per nascondere questa puzza però la puzza si sente lo stesso agli uomini appena sentono questa puzza scappano ci ho detto io a Leonardo scetto la puzza di cipolla è grave agli uomini non piace però io posso risolvere il tuo problema io ho un bel ragazzo di Trapani che si chiama Francesco e ha 20 anni che è singolo e non ha mai avuto una ragazza non aspetta altro lui che io ti presento e ti faccio vedere che tu trovi la tua anima gemella mi ha detto Leonardo grazie a Bertomio meno male che ci sei tu finita la discussione ho telefonato a Francesco ci ho detto Francesco vedi che ti ho trovato l'anima gemella ho pensato io tra Francesco e Leonardo giustamente spunta la coppia spunta l'amore faccio un'opera di bene Francesco mi ha detto è una bella ragazza sicura che è una bella ragazza ci ho detto io Francesco vedi che è una ragazza stupenda Francesco mi ha detto dice va bene dice allora ci sto dopodiché siccome Francesco come ripeto ha 20 anni che non ha una ragazza quello che si va a preoccupare della puzza questa famiglia c'è peggio presento io a Francesco e a Leonardo loro due si conoscono si frequentano e vanno d'accordo e si forma la coppia se non che nel momento in cui Leonardo si trova in indivinità con Francesco che cosa succede Leonardo apre le cosce e ci dice Francesco dimostrami che mi ami dimostrami quanto ti piaccio Francesco a me mette mano ora ci penso io e Francesco si dà da fare se non che dopo 10 secondi appena Francesco si blocca e sta così Leonardo lo vede Francesco che cosa ti è successo perché ti sei bloccato che hai sentito puzza di cipolla Francesco dice no mia cara tutto a posto solo che per un attimo mi sono bloccato perché mi sono cominciato a lacrimare gli occhi una suora mentre che stava facendo le faccende domestiche in convento viene colta da un improvviso singhiozzo che non le permette né di lavorare né di mangiare né anche di dormire decide così di andare dal medico per farse curare vada al dottore e gli dice dottore mi deve aiutare ho questo singhiozzo che non mi permette di lavorare e neanche di mangiare allora il dottore vede la situazione com'è e le dice sorella facciamo una cosa si metta qui distesa che ora le faccio una bella visita e le dico esattamente che cos'è che ha e la curo la sorella si distende dopodiché il dottore sorella le devo dare una brutta notizia lei è incinta incinta dottore ma sicuro è certo sicuro al cento per cento lei è incinta dopodiché la sorella si alza di scatto piangendo e se ne ritorna al convento dopo una mezz'oretta il dottore riceve la telefonata dalla magia superiore la magia superiore ci dice dottore ma lei ha visitato suo Carmine e lei ha detto che era incinta si si ma è superiore le ho detto che era incinta perché suo Carmine è venuta perché aveva il problema del singhiozzo infatti se lei la guarda adesso il singhiozzo ce l'ha più dice no no non ce l'ha più ha visto come è guarita perché per far passare bisogna far prendere un bello spavento ai pazienti si si lo capisco dice la magia superiore però suo Carmine il singhiozzo non ce l'ha più però padre Carlo si è buttato dalla finestra Luigi e Alba una coppia di coniugi contadini dopo 40 anni di matrimonio si accorge che naturalmente sul lato sessuale non c'era più niente e decide di andarsene finalmente a passarsi una visita dal sessuologo arrivano dal sessuologo si rivolgono col medico e gli spiegano la situazione qual è sa dottore noi ormai non facciamo più sesso non si sa perché ora vediamo analizziamo la cosa gli risponde il dottore il dottore cerca di analizzare i fatti gli comincia a fare delle domande su come si svolge l'atto sessuale eccetera eccetera dopodiché gli dice al marito gli dice senta posso parlare un attimino con sua moglie solo e il marito gli fa certo certo e se ne esce allora una volta a quattro occhi con la signora il medico le comincia a spiegare lei sa signora al giorno d'oggi l'atto sessuale è un pochino complicato specialmente dopo 40 anni di matrimonio lei non so dovrebbe come dire signora dovrebbe fare un po' di petting che è? petting? e che cosa significa sto petting? petting è prima dell'atto sessuale due persone si cominciano a baciare e si toccano non lo so signora che le posso dire come glielo dovrei spiegare a me mi sembra brutto sa com'è parlare con una donna così no no parlasse parlasse e lei dovrebbe come dire signora dovrebbe leccare la parte dove suo marito va a fare la pipì insomma va ah si certo signora è in maniera da farlo stimolare di più perché così magari al suo marito le viene la voglia e mi dica dottore devo leccare la tavoletta solo oppure tutte le piastrelle ieri pomeriggio ero che stavo camminando con la macchina a corso calata si mette un signore davanti alla strada e mi ferma 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 sono amore se ce le ha cala il finestrino gli dico chi è io sono un suo fan che mi guarda sempre le trasmissioni e le volevo chiedere un consiglio mi dico parli pure dici io già è il terzo anno che vado in vacanza e allora solo che ogni volta che vado in vacanza mia moglie esce incinta e allora quale problema c'è e c'è il terzo figlio che c'è non posso andare avanti con tutta sta crisi che c'è se lei mi deve dare un consiglio su come fare ci ho detto guardi qua le cose sono due o lei smette di andare in vacanza o se no ci fa prendere qualche contracettiva a sua moglie per risolvere il problema no io non voglio fare così io posso fare solo una cosa secondo me che cosa può fare la prossima volta che vado in vacanza me la porto con me due amici si incontrano per strada gli fa uno all'altro uè Vincenzo uè la a posto come sta e insomma ti volevo dire ma tu con tua moglie che rapporti hai in che senso che rapporti ho non lo so litigata non litigata come sono i rapporti familiari i rapporti familiari con mia moglie a posto tutto bene se te le dici una volta ogni tanto ci sono perché tu che hai problemi si dici io fino a ieri sera dice mia moglie mi ha sfasciato tutto ha rotto la televisione ha rotto un sacco di piatti e dico ha combinato un bandemone e un macello io con mia moglie a posto i rapporti sono troppo belli troppo perfetti addirittura ti posso dire che fino a ieri sera mia moglie l'ho fatta mettere in ginocchio ma che dici in ginocchio si è messa tua moglie davanti a te perciò e come hai fatto possibile ma come hai fatto te lo spiego subito io ero sotto il letto e lei in ginocchio mi ha detto esci cornuto che ti faccio un culo così ci sai ci sono tizio e caio ho fatto l'annuncio dei cuori solitari da te mi sono sistemato mi sono fatto fidanzato poi mi sono sposato ora siamo felici e contenti però è sorto un problema che problema è sotto è sotto il problema che mia moglie purtroppo per via dell'igiene vuole dormire in camere separate in camere separate sposate in camere separate dice sì io per accontentarla l'ho fatto e allora qual è il problema c'è il problema carabetto giustamente quando mi viene voglia come faccio tu non ce l'hai un consiglio da darmi ce l'ho risposto io devi fare una cosa c'è che cosa nel momento in cui a te ti viene voglia e tu sei in camera separata dici sì e allora tu fai un bel fischio così tua moglie sentendo il fischio si alza ti scatta e viene e fate quello che dovete fare c'è sì sì vero ragione hai però dici se ci viene voglia a lei se ci viene voglia a lei al limite si alza apre la porta e dice amore mio che hai fischiato guido un vecchietto ottantenne si trova a farsi una bella passeggiata in paese arrivato in piazza incontra un vecchio amico di infanzia Nicola uè Nicola ciao Guido e Nicola come va e Guido tutto a posto e te come va e insomma che vuoi la vecchiaia la vecchiaia Guido perché ti senti vecchio io dentro mi sento giovane però fuori tu lo vedi purtroppo la vecchiaia per noi ormai non funziona più non possiamo fare più niente quante signorine che guardo quante belle signore ma purtroppo ormai ma chi Guido forse per te per me perché tu non hai questi stessi problemi no io completamente e come mai io Guido la mattina dalla mattina alla sera mi mangio sempre il pane rimacinato ah sì 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 è il pane rimacinato e ti posso dire che sono sempre in tiro vero però perché non lo provi pure tu l'indomani Guido si alza di mattina e se ne va dal fornaio arriva dal fornaio e dice buongiorno buongiorno signor Guido che le do il solito mezzo chilo no no oggi voglio ce n'avete il pane rimacinato sì sì ne voglio 5 chili ma signor Guido lei non è solo non ha importanza io ne voglio 5 chili signor Guido però le posso assicurare che in poco tempo le diventa duro bene bene allora me ne dia 15 chili una giovane sposina si trova a dover affrontare purtroppo un piccolo problema che ha il marito e cioè che al marito piace fare le scorreggie ma di quelle fenomenale però e ogni volta purtroppo di sera quando loro vanno a letto il marito ci dice amore amore che c'è vita mia senti questa oddio che schifo vita mia ma queste cose si fanno e lui a ridere finché questa storia dura sempre ogni sera ogni sera finché alla sposina ci viene in mente qualcosa ci viene in mente un'idea per fare cambiare questa abitudine al marito finché una sera amore amore senti questa qua amore la vuoi smettere se non la smetti qualche volta ti esce il budello dal sedere come? ti esce il budello dal sedere ma che dice non ti resta non sa e niente tutto finisce lì la cosa continua la musica naturalmente continua per tutta la notte fino a che la donna la mattina si alza e decide dice ora gliela devo fare pagare che fa? esce e va dal macellaio e va a comprare due metri di budello di coniglio appena arriva a casa non fa altro conservare questo budello di coniglio di notte mentre il marito dice amore amore guarda questa lei fa finta di niente si mettono a dormire la mattina appena si alza mano al frigorifero va a prendere il budello di coniglio e glielo posa vicino al letto e se ne va il marito appena si alza la mattina comincia a strillare ahhh ahhh Dio che è successo e chiama la moglie vita mia vita mia la moglie arriva che c'è che è successo amore mi è uscito il budello dal sedere guarda mi è uscito il budello dal sedere e te l'avevo detto io tu scherzi col fuoco oh come faccio vita mia allora la moglie giustamente gli fa un pochino di tenerezza gli dice vabbè vita mia non ti preoccupare tutta si risolverà ma che t'ha fatto male per caso risponde lui no quando è uscito no ma quando l'ho rimesso dentro mi hai bruciato tantissimo oi oi Oh yeah